Attualmente siamo molto lontani da raggiungere i numeri che ci potrebbero riportare in zona gialla e di fatto siamo in linea con la media nazionale. Con queste parole nei giorni scorsi il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha smentito le voci che hanno fatto incombere sulle Marche l'ombra di un ritorno in zona gialla. Il messaggio lanciato da Acquaroli voleva affermare l'allarmismo ingiustificato creatosi tra i turisti, tanto che alcuni albergatori marchigiani, come specificato dallo stesso presidente, hanno ricevuto disdette e richieste di informazioni a causa dell'ipotetico cambio di colore della regione. Anche a Fano sono arrivate telefonate preoccupate da parte dei turisti ed in qualche caso addirittura alcune rinunce, ma nonostante questo la stagione, dicono gli albergatori, sembra essere partita discretamente. Qualche disdetta c'è stato e quindi noi eravamo ben partiti in pompa magna per la stagione e adesso siamo un pochettino allarmati perché stiamo a vedere se tutti penseranno che la zona gialla possa un po' comprimere la libertà di movimento. Qualche informazioni in più volevano, non ero in grado di darle fino in fondo, che cosa vuol dire zona gialla. Abbiamo cercato di tranquillizzare, però loro come dico si affidano alle notizie nazionali, che al momento mi sembra sono quattro le regioni un po' a rischio e quindi quello è che sentono, al nord o chi viene anche dall'estero. Secondo me è solo un falso allarmismo, è bene fatto il Presidente Cuaroli e il Vice Presidente Carloni a smentire immediatamente questo tipo di tendenza alla chiacchiera più che al fondamento. Quindi diciamo che noi come titolari di struttura ricettiva, perlomeno per quello che mi riguarda, ancora non abbiamo avuto nessuna disdetta, nessuna richiesta di restituzione di caparre. La stagione non sta andando male, considerando però che abbiamo aperto a giugno e che quindi abbiamo già perso due o tre mesi di primavera, con tutti gli eventi che chiaramente non ci sono stati. Quindi diciamo che l'affluenza turistica normale c'è, le prenotazioni stanno andando bene anche per agosto e quindi se questa storia dell'eventuale zona gialla o una recrudescenza dei contagi non ci creerà ulteriori problemi, la stagione in qualche maniera riusciamo a uscirne. Al momento non abbiamo avuto nessuna disdetta e informazioni, le normali informazioni che si chiedono sul vaccino, qualcuno chiede ma per venire in vacanza bisogna essere vaccinati, ci vuole il Green Pass, al momento no, però se vuoi sarà meglio. Abbiamo avuto un rallentamento nelle richieste di informazioni, di prenotazioni, ma perdurando questa situazione e martellando sulla stampa e sulla televisione, continuando a dire che quattro regioni sono a rischio giallo, i danni sicuramente verranno fuori, perché poi alla lunga a forza di martellare sembra quasi uno sport nazionale quello di farci del male.